Dio ama sempre e ci ama per primo, non importa quanto siamo peccatori. E il vero amore è Dio, non quello delle Tenovelas, o l'entusiasmo per una persona che poi si spegne. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato il brano del Vangelo di Marco sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci proposta dalla liturgia del giorno. La compassione di Gesù per la folla ha spiegato non è la stessa cosa che avere pena, perché l'amore che Gesù nutre per le persone che lo circondano lo porta a patire con loro, a coinvolgersi nella vita della gente. E in quest'anno della misericordia il Signore ci sta aspettando per abbracciarci e dirci, figlio, figlia, ti amo. Andare dal Signore e dire, ma tu sai Signore che io ti amo. Oh, se non me la sento di dirla così, tu sai Signore che io vorrei amarti, ma sono tanto pecatore, tanto peccatrice. E lui farà lo stesso che ha fatto col figlio che ha spesso tutti i soldi nei vizi. Non lascerà finire il tuo discorso con un abbraccio. Ti farà tacere l'abbraccio dell'amore di Dio.